Di cosa parliamo questa mattina in panchina? Beh, è abbastanza evidente. Invito quindi subito a prendere posto vicino a me Nicola Galbo, che è uno degli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere, che è venuto a raccontarci, ciao Nicola, benvenuto, che cosa fa l'associazione, chi è, per chi ancora non lo sapesse e soprattutto poi ci sarà anche un appello rivolto anche agli utenti di X Liguria. Nicolò tu sei operatore umanitario, non sei un medico, lo diciamo subito. No, non sono un medico, io sono un amministratore e mi occupo di dare supporto al personale sanitario in modo tale che poi il personale sanitario possa fare quello che sa fare meglio. Immaginatevi un po' un ospedale, in un ospedale ci sono i medici, gli infermieri, ma ci sono anche tante persone che lavorano in supporto, io mi occupo di fare questo. E anzi, senza questo supporto probabilmente non ci sarebbero neanche i medici che fanno la parte, quella dura, durissima del lavoro, ma che hanno bisogno di tutto questo supporto. Tu hai avuto anche delle esperienze sul campo? Assolutamente sì, io faccio il lavoro un po' nascosto dietro, sono con Medici Senza Frontiere dal fine 2008, quindi sono più o meno 7 anni che lavoro con Medici Senza Frontiere, lavorando nei luoghi dove Medici Senza Frontiere è presente e mi occupo sostanzialmente della gestione finanziaria dei progetti, quindi diciamo e la gestione pratica per dire fare pagamenti, ma anche in maniera un pochino più generale la gestione dei budget e quindi assicurarsi che i fondi che Medici Senza Frontiere riceve per le sue attività siano usate come devono essere usati, quindi per fare quello per cui li riceviamo e farlo in maniera efficiente e efficace, quindi usare i fondi bene. Come è stata la tua esperienza all'estero? La mia esperienza all'estero è secondo me molto arricchente, molto interessante e mi ha dato la possibilità di vedere tanti posti e vederli in maniera diciamo così intensa e più approfondita e poi effettivamente di condividere la vita un po' se vogliamo per certi versi delle persone con cui noi lavoriamo e che troviamo poi tutti i giorni nei nostri ambulatori. Ecco ricordiamo che è molto importante il fatto che Medici Senza Frontiere anche qua, anche a Genova vi sta cercando, possiamo dirlo? Assolutamente sì, diciamo ci sono tanti modi secondo me per lavorare con noi, per sostenere un po' le nostre attività, uno senz'altro è partire, il secondo modo è quello di donare dei fondi a Medici Senza Frontiere, il terzo modo è quello di partecipare ai gruppi che sono presenti nelle regioni, qui a Genova c'è un gruppo che porta avanti tutto il discorso di comunicazione delle attività di Medici Senza Frontiere, perché uno degli obiettivi di Medici Senza Frontiere è anche di quello di dare voce a persone che non hanno voce, quindi presentare il vissuto e diciamo le problematiche che noi incontriamo nei posti in cui lavoriamo. Alcune di queste voci, Nicolò, so che le troviamo nel tuo consiglio letterario. Assolutamente sì, allora io posso proporre questo volume che noi non restiamo a guardare, che è un volume di un paio di anni fa, insomma qualche anno fa, non è facilissimo da trovare in libreria, nel senso che sono stati venduti abbastanza, però l'obiettivo di questo libro è quello di presentare un po' il vissuto delle persone che fanno questo lavoro, presentando e un po' diciamo quello che fanno, ma anche il modo in cui lo fanno e dare testimonianza un po' anche del coraggio e dell'ottimismo, secondo me, che queste persone che noi abbiamo nel voler trovare la speranza, nel voler coltivare il bene anche nei drammi, anche nelle disgrazie, anche nelle problematiche. E allora grazie a Nicolò, grazie a Medici Senza Frontiere. Grazie Erika.